Ed ora parliamo di canto corale, una tradizione fondamentale per una provincia come la nostra e lo facciamo con il nuovo presidente dell'USCI, l'Unione Società Corali Italiane Delegazione di Sondrio, Sergio Salini. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. Sì, innanzitutto con quale spirito ha accolto questo nuovo incarico che la porterà a guidare l'USCI? Esaltato, esaltato perché le dirò che due giorni prima avevo già deciso formalmente di non più entrare perché non è per piangere ma c'è da sgobare fortissimo per tenere insieme tutto l'USCI provinciale perché sono 34 cori, pare a oltre mille coristi. Un'associazione molto dinamica, molto viva in provincia di Sondrio. Diciamo che per la maggior parte sì, per altri bisogna dedicare un po' di attenzione e sensibilizzarli perché una buona parte dei cori tendono a fare un po' autonomamente anche se hanno capito in questi ultimi anni che veramente lavorare insieme vuol dire fortificare anche la visibilità eccetera. Significativa la sua dedizione, il suo impegno in questi anni al Belcanto, ora come presidente guiderà tutta l'associazione. Cosa ci metterà di suo? È un po' prematuro dirlo perché in effetti finora ho pensato da solo io come da solo il vicepresidente, un nuovo aggiunto al nostro candidatore che è Mirandola Mauro e da anche la Simona Mazza che è una segretaria straordinaria oltre a Gabriele Mazza, poi in ultimo abbiamo una macchina straordinaria che si chiama Maria Comella che lo conoscono anche i Sassi. Quindi ripeto, ognuno di noi ha delle proprie idee ma non ci siamo ancora messi insieme salvo decidere l'incarico del Consiglio un'ora dopo la candidatura. Diciamo che lei ha anche un bel bagaglio di esperienze. Dove ha cantato? Io sono partito appena nel 1960 scherzando e cantando dal Gregoriano a Chiavenna perché io sono cresciuto a Chiavenna fino a 28 anni, quindi in quegli anni, nel 60 o giù di lì abbiamo incominciato a giocarellare con il Gregoriano per il quale non avevamo poi una gran voglia e poi abbiamo capito invece dopo due anni quanto fosse importante per la vocalità. Nel 64 a Chiavenna si è costituito il coro Nivalis come nello stesso anno il coro Cai di Sondrio diretto dal carismatico Siro Mauro e due anni dopo anche il coro Montiver di Tirano di Tirano sempre diretto dal Siro Mauro. Va considerato che fra questi primi tre cori in assoluto è un coro femminile che è nato addirittura nel 36, quello addirittura guidava la provincia di Sondrio per quanto riguardava la capacità, la tecnica e la vocalità. Un coro femminile promiscuo all'inizio fondato da Don Giocondo D'Amato a Chiavenna che è la corale lavorenziana. Subito dopo la corale lavorenziana in provincia di Sondrio il primo coro che è nato cantando soprattutto canti tradizionali ma non solo del nostro territorio ma anche di altri territori, canti tradizionali anche canti di Alpi e il coro Vetta di Ponte Valtellino perché è nato nel 1961 tant'è che a testimonianza dello stile di canto che avevano scelto si sono vestiti e sono ancora vestiti tuttora con gli scarponi, con i calzettoni rossi, con i pantaloni di velluto e la maglia alla Carlo Mauri. Ecco questi sono i quattro cori fondamentali dalla provincia di Sondrio. Da lì è incominciato un po' di passione maggiore e pian piano, ma neanche fino agli anni 80, piano piano, poi dopo gli anni 80 è esploso un grande numero di cori che adesso fa onore alla provincia di Sondrio anche se migliorare la tecnica sarebbe necessario. È tempo di cambiare anche adesso. In questi giorni la sua nomina presidente dell'USCI, da questo momento il suo impegno con tutto il direttivo verso un obiettivo importante. A giugno c'è Rezia Cantat. Ecco questo è il gruppo che abbiamo dentro un po' tutti perché i piani sono già fatti. Un movimento incredibile che a spiegarlo ci vorrebbe troppo tempo ma chi dovesse vivere quelle tre giornate con la presenza ormai di 3600 coristi dei quali addirittura 132 cori sono della Confederazione Helvetica. È un ambaradam che smuoverà i sassi. Tutte le strade di Chiavenna saranno smosse da questo movimento eccezionale. Un aneddoto. Gli svizzeri per esempio 3600 coristi. Tre mesi fa erano già iscritti e avevano già impegnato tutti gli alberghi del mandamento di Chiavenna. Tutti però tanti già tre mesi fa per quel periodo. Appuntamento dunque l'8, il 9 e il 10 giugno in Val Chiavenna per questo grandissimo evento Rezia Cantat.